La profezia di Cacciaguida sarà diversa da tutte le altre, non un oracolo scuro, ma una descrizione dettagliata e sconvolgente delle peregrinazioni e degli incontri che attendono Dante al suo ritorno tra i mortali. Prima però il trisavolo del poeta ci tiene a tornare sulla questione della prescienza delle anime introdotta da Dante per aggiungere una precisazione importante.